Allora, che mi racconti? Che sto per sposarmi? Con chi? Con me, il principe del fascino mi ha messo in cinta grazie a 30 magici secondi di spregamento. Maseltov! Si campa una volta solo, amico mio. Salute. Salute. Questo pollo è favoloso. È pesce. Scusi. Tuo padre è un poliziotto, davvero? Che cos'è? Il tuo regalo di matrimonio. Non so che dire. Per la prima volta in vita mia mi sento veramente, seriamente, irreparabilmente innamorato. Anch'io, Barney, anch'io. Non essere ridicolo, ci siamo appena conosciuti. Al tuo matrimonio. Non mi importa se è capitato al mio matrimonio, o a un funerale, o al mio capezzale. È capitato. Sei sposato con una donna che è ricca sfondata e ha due bellissime tette. Parecchi matrimoni riusciti sono fondati su molto meno. Barney! Sei stato tu a programmare tutto, vero? Ho bisogno di scoprire. Che classe Panofsky. Ho divorziato. L'inchiostra è asciutta almeno? Fammi vedere. Dopo tutto quello che hai fatto per inseguirmi, come posso fidarmi di te? Io farei qualsiasi cosa per te. Non dire qualsiasi cosa. La vita è reale. È fatta di piccole cose. Minuti, ore, sonnellini, commissioni, routine. E questo deve bastare. Sei stato bravo, Boychick. No, credo che stare un po' separati farebbe bene a entrambi. Io e tua madre risolveremo tutto. Stai cercando di aggiustarlo? Non puoi aggiustarlo come fai con tutto il resto. Miriam, mi sono mai arreso quando si è trattato di te? No, mai. E che cosa ti fa pensare che comincerò adesso?